La domanda globale di pasta ha superato i 16 milioni di tonnellate annue e l'Italia, principale produttore europeo di grano duro con oltre 1,3 milioni di ettari coltivati, contribuisce con circa il 25% del frumento utilizzato nella produzione mondiale di pasta. E' quanto emerso alla prima edizione del World Durum & Pasta Forum, dove oltre 300 operatori si sono confrontati sui principali mercati, con un focus su Nord America, Europa, Turchia, Kazakistan, oltre che sulle tecnologie innovative per migliorare la resa e ridurre l'impronta ecologica. In un messaggio di saluto, il ministro degli esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani ha evidenziato come l'eccellenza della nostra filiera agroalimentare ha contribuito grandemente al successo di questa eccezionale espressione del saper fare italiano nel mondo. Nel 2023, ha precisato il vice premier, le esportazioni agroalimentari del nostro paese hanno raggiunto il livello record di 63 miliardi di euro, con una crescita del 7%, una linea tendenziale che si conferma anche nei primi sei mesi del 2024, che hanno fatto registrare un ulteriore incremento del 7,5%. Nel corso del forum, ideato e promosso dal CRP Capital Investment, lo show cooking di Alessandro Circello, che ha preparato i primi piatti tipici regionali, ricordando i benefici e le proprietà nutrizionali del grano e della dieta mediterranea.